sta dormendo mentre lei dorme io preparo la pappa emily stai bene su su non piangere ma ci serve un letto nuovo da un negozio di mobili ma ci serve un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salve, ci serve un letto per la bimba. Abbiamo una vasta scelta. È così piccolo. È una culla perfetta per Emily. La prendo. 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 Emily ama la sua culla. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao.